Benvenuto alla nuova puntata di Passione Calcio. Oggi parliamo della scoli calcio e il recente cambio di allenatore. Dopo il sonno del mister Carrera, la società ha vissuto una settimana incertezza, con la banchina fidazza temporaneamente all'allenatore della primavera Ledesman e combinata con il terzo cambio in banchina. Dopo la rinuncia all'ultimo istante di Attilio Tesser, richiamato dalla Tressina, è stato scelto mister Domenico Di Carlo per guidare la formazione. Nella puntata di oggi ascolteremo le analisi dei giornalisti Valerio Rosa, Alessandro Mannocchi, Chiara Poli e Gabriele Brandozzi, che oggi offriranno le loro visioni sugli sviluppi di questa stagione dell'Ascoli. A seguire il saluto speciale dell'ex bianconero Fabrizio Caraccio. Passiamo subito la parola ai nostri ospiti. Sarà Domenico Mimmo Di Carlo, il nuovo allenatore dell'Ascoli, il quindicesimo dell'era Pulcinelli, il terzo in questo inizio di stagione così complicato come quello che sta vivendo l'Ascoli, tornato in Serie C dopo la disastrosa stagione dello scorso anno. Rimane un po' da chiarire quello che è successo con Tesser, che era in viaggio per Ascoli, che sembrava ormai il nuovo allenatore, ma è stato deciso che fosse lui il tecnico a subentrare a Massimo Carrera e poi a mister Ledesma, che ha guidato l'Ascoli solamente per una partita. Poi Tesser, all'altezza del casello di San Medetto, ha avuto un ripensamento, non si è capito bene, ancora ci sono tante versioni, diverse versioni, su cosa sia veramente successo, forse non lo sapremo mai, ma certo è che poi ha girato la macchina ed è tornato a Trieste, dove ha un contratto ancora in essere da oltre 150 mila, 170 mila euro, quindi diciamo che può tranquillamente rimanere fermo e continuare a guadagnare. L'Ascoli in quel momento si è trovato un po' spiazzato, grazie alla mediazione, ai rapporti che ci sono di amicizia probabilmente, ma sicuramente di lavoro che ci sono stati a Ferrara lo scorso anno, il direttore sportivo Righi è riuscito a convincere il mister Di Carlo, che lo scorso anno proprio con la SPAL aveva iniziato il campionato e poi essere esonerato dopo le prime sei giornate e poi è tornato subito dopo la pausa di Natale e da lì è iniziata una buona cavalcata della SPAL che si è salvata alla grande nel proseguio della stagione. Insomma, un allenatore comunque esperto, 60 anni, allenato in Serie A, lo ricordiamo su diverse panchine anche importanti in Serie B e in Serie C, un allenatore che comunque fa del pragmatismo la sua forza, un allenatore di carattere, un allenatore che speriamo possa dare anche un po' di carica a questo gruppo che sembrava comunque competitivo per il campionato di Serie C e che invece si è un po' sfaldato in queste settimane e soprattutto non è riuscito più a dare quella continuità di risultati che è importante avere in tutti gli inizi di stagione. Purtroppo non è andata bene, le due sconfitte in casa in particolare sono state molto molto amare e quindi si riparte da Di Carlo, si riparte con un derby, un derby molto molto delicato perché il Pescara sta andando veramente forte con il tecnico Baldini ha trovato anche gioco e spettacolo e gol, Lascoli dovrà subito rimettersi al lavoro, cercare soprattutto di fare gruppo e credo che ormai gli alibi siano finiti anche per quanto riguarda i calciatori, sono riusciti a far mandare via due allenatori praticamente uno dietro l'altro, Ledesma sembrava dover tornare subito dopo il no di Tesser e poi invece è stato annunciato che rimarrà alla primavera sconfessando un po' quello che era stato detto in conferenza stava proprio dal direttore sportivo Righi che subito dopo la partita aveva confermato Ledesma sulla panchina almeno per questa gara contro il Pescara, poi invece sappiamo bene com'è finita e ci auguriamo tutti che Di Carlo sia veramente l'allenatore giusto, l'allenatore di carattere, l'allenatore che ha la giusta esperienza per togliere Lascoli da questo momento di difficoltà magari battendo già il Pescara e fermare la corsa della capolista della Serie C ma in ogni caso la speranza è che sia comunque capace di dare un gioco, una linearità, anche un modo di giocare, una quadratura della squadra per cercare in ogni caso di far bene nel proseguo della stagione, domenica è un derby con un solo allenamento fatto dal nuovo allenatore quindi diciamo che può accadere veramente di tutto ma io personalmente sono convinto che Mimo Di Carlo sia in questo momento la persona giusta per tirarci fuori dai cuori Nuovo allenatore Mimo Di Carlo, sono molto soddisfatto dell'arrivo di Carlo appunto perché lo ritengo un allenatore molto esperto con grande esperienza sia in Serie A che in Serie B, poi ultimamente è stato in C, sono molto contento, secondo me un allenatore come lui potrà dare tanto sia in termini di esperienza che di grinta a questa squadra che deve recuperare anche un po' diciamo a livello mentale la squadra, un po' il gruppo sperando di potergli dare anche un gioco accettabile anche se come tutti sanno in Serie C il gioco conta poco, conta l'agonismo e soprattutto come in tutte le categorie contano i punti, quindi io sono molto soddisfatto dell'arrivo di Di Carlo, si parlava di Tesser ma poi vabbè è successo quello che è successo e in giornata è arrivato Di Carlo. Terzo allenatore in un mese, beh certo Carrera io penso che sia stato confermato anche per la situazione che si era venuta a creare in seno alla squadra, in seno alla società perché appunto sembrava imminente un passaggio di proprietà invece poi è rimasta a Pulcinelli e in quella fase di transizione visto che il ritiro l'Ascoli l'avrebbe iniziato il 15 luglio, nell'incertezza hanno confermato Carrera che secondo me ha fatto meglio in B che non in C perché quelle sette partite sulla panchina bianconera continui cambi di moduli anche sulle sostituzioni non mi è parso molto attento diciamo e per cui un esonero inevitabile. Le Desma è stato una sorta di traghettatore però anche lui non me ne voglia ma presentarsi con un modulo 3-5-1-1 in una partita come quella contro il Rimini nella quale dovevi vincere insomma anche mi ha un po' deluso però una partita e ha avuto ottimi risultati in primavera per cui adesso aspettiamo il nuovo allenatore Di Carlo sperando che ci possa dare la tanto attesa svolta. Sicuramente questa è stata una settimana molto difficile per l'Ascoli perché prima è stato sonerato Mister Carrera poi è stato promosso dalla primavera Le Desma e in ultimo poi è arrivato Mimo Di Carlo. Sicuramente credo che Mister Di Carlo possa essere l'allenatore giusto per l'Ascoli ricordiamo che è stato chiamato anche Attilio Tesser che poi ha rinunciato all'ultimo mentre stava proprio arrivando ad Ascoli quindi un'altra situazione molto particolare ancora si devono capire bene i dettagli comunque avrebbe rinunciato per ritornare alla Triestina dove era ancora sotto contratto. Detto questo ecco ripeto per me Mimo Di Carlo è l'allenatore giusto, ha la giusta personalità, il giusto carisma, ha anche una visione un po' delle cose che può ridare entusiasmo alla piazza, che può riportare i tifosi allo stadio ma soprattutto che può ridare entusiasmo ai giocatori, che può ridare fiducia. Questo comunque è quello che lui ha promesso in conferenza stampa e questo è quello che un po' tutti si aspettano perché effettivamente i giocatori ci sono, hanno tanta qualità, ci sono giovani interessanti, ci sono giocatori di grande esperienza come il Gaglione, come Luca Tremonada, come Varone, quindi insomma ci si aspetta molto molto di più da questa squadra e sicuramente con un allenatore così l'Ascoli può perlomeno fare un campionato da protagonista, questo è quello che mi aspetto. Ci sono pochi giorni per preparare la partita, un giorno e mezzo di lavoro diciamo effettivo, quindi sicuramente non vedremo subito diciamo l'Ascoli di Mimmo di Carlo, però potremmo, ecco quello che mi aspetto di vedere è sicuramente tanta voglia di dimostrare di essere l'Ascoli, questo sì. Il mister solitamente negli ultimi due anni ha lavorato con un 4-3-1-2, quindi con un trequartista dietro le due punte, un rombo di centrocampo fondamentalmente perché poi spesso si trasformava nei secondi tempi o nei giorni di ritorno nelle sue squadre sia nel Vicenza che nel Pordenone in un 4-4-2. L'ultima annata è stato un effettivo 4-4-2 con la SPAL, quindi con due mediani, con due centrali di centrocampo. Vedremo perché poi ecco probabilmente partirà proprio con questo modulo, il suo preferito, il 4-3-1-2 con tre molà dalle spalle degli attaccanti, Marsura probabilmente schierato nei tre di centrocampo, quindi come mezzala e poi gli esterni che si alzeranno tanto e andranno a dare manforte alle punte. Quindi io mi aspetto un Ascoli sicuramente più coraggioso, come ha detto anche il mister che cercherà di fare gol, quindi di sfruttare anche il fattore casalingo perché il Del Ducat deve tornare a essere un fortino. Io credo fortemente che questo allenatore possa dare la scossa giusta, nonostante abbia pochi giorni, affronterà il Pescara che era capolista, una squadra con 10 gol fatti, solo 5 subiti, 17 punti. L'Ascoli deve lavorare molto sulla fase anche difensiva perché ha subito già 9 gol, però sono veramente molto fiducioso in questo allenatore. Dopo l'esperienza con Massimo Carrera, in vero non esaltante, anzi oserei dire pessima, e dopo il diniego di Attilio Tesser di tornare ad allenare in terra scolana, l'Ascoli sceglie Domenico Di Carlo, il tecnico sessantenne che ha allenato buone squadre anche nella massima serie, eccellente la sua esperienza con i Clivenzi del Chio Verona, con cui ha ottenuto veramente buoni risultati e pareva la sua carriera volgere verso l'alto. Poi una certa involuzione fino alla scorsa stagione con la retrocessione a Ferrara con la SPAL proprio in Serie C. Cercherà di rilanciarsi con la formazione bianconera perché anche l'Ascoli ha bisogno di tornare in auge e ottenere risultati in antitesi rispetto a quelli attuali. Una classifica anonima a frutto di tre sconfitte, due pareggi e due sole vittorie e due delle sconfitte tra l'altro tra le mura amiche. C'è bisogno dunque di rilanciare la formazione bianconera e Di Carlo sa che conseguentemente rilancerà anche la sua condizione da allenatore. Dunque noi facciamo un in bocca al lupo alla formazione bianconera che dovrà contrastare avversari di certo rilievo e già il Pescara nel prossimo turno avversario temibile visto che guida la graduatoria del girone B della Serie C. Ma ci sono anche altre formazioni agguerrite come la Ternana, il Perugia, lo stesso Entella, la Torres squadre che potranno assurgere ad ottimi livelli di risultati. L'Ascoli dovrà cercare di risalire e potrà farlo con un allenatore certamente agguerrito e determinato, sanguigno. Come Di Carlo potrà dare la scossa ad una situazione dormiente un po' in casa bianconera e rilanciarsi verso fasti che i tifosi hanno vissuto negli anni passati. Queste sono anche le ambizioni degli stessi calciatori, della dirigenza di noi tutti. Dunque facciamo un in bocca al lupo a Domenico Di Carlo e conseguentemente, anzi in misura maggiore, alla formazione bianconera. A tutti i tifosi bianconeri un solo grido, non mollare mai, forza picchio. Questo è un motto che mi avete messo male nella testa, quindi come adesso bisogna crederci e non mollare mai, mai. Perché l'Ascoli deve ritornare più presto dove merita. Quindi forza Ascoli, uniti, si ritorna in alto. Un saluto a tutti i tifosi e a tutta la città, splendida città dove mi sono trovato benissimo. Un abbraccio forte ancora e forza Ascoli. La puntata di Passione Calcio termina qui. Se vi è piaciuto mettete un like. Se ritenete che la trasmissione possa proseguire mettete un like. E seguiteci sui nostri social. Sparpice no game. Ha presentato il calcio. La vera magia. Passione che brucia tra campo e tifosi. Con Passione Calcio siamo tutti gloriosi.